musica d'arte 2015 siamo stati contenti che due concerti ha fatto parte del circuito piano city milano simone pionieri ieri sera marino naon questa sera in pilane uno splendido programma sulla fantasia pianistica marino è stato davvero molto interessante la fantasia pianistica ci puoi dire qualcosa rispetto a questo tema era un programma imparneato su cinque pezzi in realtà di cui tre erano fantasie cioè la fantasia di chopin la fantasia di mozart e la fantasia di schubert la fantasia è un genere che per definizione diciamo sfugge a una precisa articolazione formale come quale può essere quella della sonata quindi mi è parso interessante accostare tre diversi autori che hanno scelto percorsi diversi per approfondire uno stesso genere mantenendo ciascuno direi profondamente la propria individualità era la prima volta che proponevo questo tipo di programma questo questa impaginazione e spero penso anzi di riproporlo ancora in altri contesti quindi mi è stato molto utile e al contempo molto piacevole per questa occasione perché trovo che comunque questo spazio funzioni bene per questo tipo di eventi è stata una serata molto emozionante io ti ringrazio e ringrazio alla prossima grazie